Pianeta Samba, commenti, opinioni sul campionato della San Benedettese calcio con ospiti in studio. Conduce Luca Bassoffi. Buonasera, eccoci qui, siamo ritornati dopo tanto tempo, un appuntamento speciale quello di stasera con Pianeta Samba, sta per iniziare una nuova stagione sportiva, speriamo con importanti risultati. Poi tra l'altro oggi c'è stata anche una giornata importante per la compilazione del calendario del Giro F di Serie D, quindi daremo tutte le notizie, ma soprattutto abbiamo un ospite importantissimo che è il Presidente della San Benedettese, Vittorio Massi, che ringraziamo per essere qui nei nostri studi stasera. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a tutti i tifosi della Samba. Benissimo, allora, intanto scaldiamo i tifosi della Samba dicendo che se vogliono interagire con noi possono mandare messaggi whatsapp 333 32 71 200 oppure mail a diretta chioccio radioazzurra.it, mandateci messaggi e poi il Presidente risponderà a tutte le vostre domande. Io partirei già subito con il Presidente perché, come ho detto prima, la notizia di oggi è il calendario del Girone F ed è, secondo me, un inizio abbastanza terribile. Perché la trasperta di Ascoli con l'Atletico Ascoli, con una squadra rognosa, poi l'esordio in casa con la Reganatese che è una delle squadre che è pretendente alla vittoria del campionato, il notaresco che comunque sembra una squadra ostica e poi c'è l'Aquila sempre in casa. Facendo una fotografia un po' su queste prime quattro giornate, che tipo di opinione si è fatto su queste quattro giornate che io ho definito di fuoco? No, ma che di fuoco. Tanto le partite bisogna giocare, bisogna incontrarle tutte le squadre. E vabbè, preferivi che capitasse il notaresco primo, il Serigallia? No, va bene. Capita l'Atletico Ascoli, capita l'Area Canatese dopo. Ma non è un problema, tanto le partite le devi incontrare, comunque vada, le devi incontrare tutte. E io sicuramente non ne ho fatto tanto caso. Me l'hanno girato in 2000 il calendario, però non facevo manco caso. Tanto una partita valeva l'altra, secondo me. Quindi dobbiamo dimostrare la forza della Sambettese perché noi dobbiamo quest'anno scendere in campo con la consapevolezza che siamo la Sambettese. Ecco, puòarsi che queste quattro partite aiutano a far entrare già nel clima campionato, quindi non solo sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma soprattutto sotto l'aspetto della battaglia e caratteriale che poi sono caratteristiche che servono in questo campionato qui, per poter vincere il campionato che poi questo è l'obiettivo della Samb. Ma guarda Luca, il campionato ce lo giochiamo fino in fondo, ma anche l'anno scorso ce lo siamo giocati abbastanza bene. Però io ti dico che la squadra, c'è uno staff, c'è il professor Di Renzo che li sta facendo correre dalla mattina alla sera, li sta preparando al meglio, c'è il mister Palladini con tutti i suoi collaboratori, da beni all'allenatore dei portieri a Voltattorni e a tutto il resto, tutti i suoi collaboratori, che alla fine ognuno sta lavorando e studiando per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Il discorso è che si deve inculcare, e chi meglio di Ottavio possa farlo, si deve inculcare a tutti che siamo la Sambettese e giochiamo davanti a, attualmente stasera erano quasi 2700 abbonati attualmente, quindi è un campionato che avremo sempre uno stadio pieno come l'anno scorso, quindi la fame di vincere, la fame di arrivare, adesso è ora di farla vedere, entrare in campo e chiunque sia la squadra bisogna andare avanti e sfondare quella rete. Ma non sei preoccupato di questo inizio così? Tra l'altro affrontare subito, soprattutto a Rivera delle Palme, già le maggiori pretendenti, quelle che possono contendere il primo posto alla Sambettese, parlo di Re Canatese, parlo ovviamente di L'Aquila e di Roma City, perché queste sono le squadre che vengono pronosticate e proprio nelle prime tre giornate in casa si affronteranno queste tre formazioni. Ma guarda, l'anno scorso giocavamo le partite, qualsiasi campionato c'è la partita fuori e dentro, alla fine la Sambettese ha giocato quasi sempre in casa, perché c'ha sempre al seguito i suoi tifosi e i suoi colori cori e gli fa sentire la vicinanza, quindi il nostro tredicesimo in campo ce l'abbiamo sempre, quindi dobbiamo capire e inculcarci in testa veramente che quando entriamo in campo noi siamo la Sambettese e non ci fa paura nessuno, questo è l'obiettivo mio e quello che sta facendo capire Ottavio che noi non guarderemo in faccia a nessuno quest'anno. Una squadra con caratteristiche diverse rispetto all'anno scorso? Come la vedete voi dall'interno? Mi è parsa una squadra abbastanza tecnica, ringiovanita rispetto all'anno scorso? Una squadra che è stata fatta, composta dal direttore sportivo De Angelis quest'anno, siamo partiti molto bene, lui si è confrontato sempre con Ottavio e quindi credo che l'abbiamo visti, già li conosciamo, certi li conosciamo, li conosciamo dei giocatori, altri li stiamo scoprendo, li stiamo scoprendo, però credo che gli innesti che sono stati fatti, i giocatori che sono arrivati, credo che siano uomini da Sambettese che possano affrontare questo campionato e possano indossare questa maglietta rosso e blu. Il discorso è che ci sono, adesso si sta rodando, domani vediamo un'altra amichevole, vediamo un attimo come li metterà Ottavio, però Ottavio, l'ho sentito l'altra sera, è molto ottimista, ma soprattutto per il gruppo, lui è un allenatore che parla molto con i giocatori, poi c'ha questi due o tre esperti che oggi sentivo un allenamento, sentivo Gennari che richiamava tutti i giocatori, alla fine ci sono giocatori come Zini, Guadalupi, Gennari e soprattutto Eusebi, che si fanno sentire, fanno sentire la loro esperienza, in col calcundola anche ai giovani. Questo mi conforta, mi conforta il fatto che i giocatori esperti sono pronti a mettersi in gioco e a non rischiare nulla, anche in allenamento, gridare all'altro che ha sbagliato e farlo migliorare. E questo dimostra di essere arrivati, che stiamo arrivando a un grande gruppo. Poi, che la società abbia fatto tutto il massimo per farli sentire a loro agio, lo vedete tutti, abbiamo creato un ristorante tutti insieme, non hanno voluto fare un ritiro perché forse poteva essere un po' dispersivo, secondo il prof e Tirenzo, ma è avuto ragione Tirenzo. Oggi hanno fatto una preparazione al Ciarrocchi, dove si sono trovati perfettamente, tu immagini dopo l'allenamento poter andare a fare il bagno al mare era qualcosa di fantastico e tu li vedevi, perdemolo asciugamano, si andavano a rinfrescare al mare. Chi ha queste possibilità? Doveva andare in montagna per forza? Non serviva a nulla. Senti, un passo indietro, no? L'anno scorso, diciamo, buona parte del girone d'andata, fino alla gara con il Campobasso, bene anche se c'erano qualche problema, però venivano comunque colmati dai risultati. Poi dopo Campobasso si è zoppicato e non si è ripresa più la strada maestra, anche se poi effettivamente c'era stato già un nuovo aggancio in vetta alla classifica, però sembrava tutto meno efficace rispetto a quello che si era visto nel giro d'andato. Che rammarico hai della scorsa stagione? Perché alla fine la Sammettese non è riuscita a giocarsi fino in fondo la possibilità di poter vincere il campionato? Questo è un dubbio che mi porterò sempre, però io spero di cancellare il dubbio vincendo questo campionato, quindi l'unico rammarico che ho se ci fosse stato dato il rigore a Campobasso è lì, volevo vedere che campionato c'era. La svolta è stata quella, perché te lo dico sinceramente, io ho incontrato di nuovo il designatore degli arbitri in occasione del torneo FIGC qui a Riviera delle Palme e lui non solo mi aveva detto a Roma del rigore di Campobasso, ma mi ha ridetto all'Aquila, è stato clamoroso. Quindi a vedere un attimo queste situazioni, rivedere un attimo queste situazioni, non lo so che campionato ci sarebbe stato, però oramai è finito quel campionato lì, è stato bello, entusiasmante, forse qualche errore l'abbiamo fatto e l'abbiamo riconosciuto e dove ci sono stati errori siamo ripartiti a sistemare, a sanare quello che abbiamo visto che non era andato bene. Adesso come società noi abbiamo fatto del tutto, il direttore sportivo De Angelis si è impegnato ogni giorno, ma tuttora sta sempre impegnato ad osservare la squadra, se va bene questa, il 30 agosto tirerà le somme, Ottavio valuterà se ci saranno dei ritocchi o meno, però credo che oramai la squadra c'è, è formata, se serve un under, non lo so, questo... Prima di andare in pubblicità... C'è la pubblicità facciamo? Sì, facciamo un break, un stop, un break facciamo... Si mangia dopo, si mangia. Si mangia, si mangia pure. Ho mangiato già una pizza. Ah sì, hai fatto male? No, ho mangiato una pizza fantastica qua vicino alla chiesa, Ah, posso fare pubblicità, però posso fare pubblicità, però ho messo alla, polla fuori, che può difumare, è preciso. Prima del break, quindi mercato non chiuso alla fine? Cioè ci può stare spazio per uno o due elementi? Guarda, il mercato, non è che dico io che non è chiuso, il mercato è sempre aperto, è stato dimostrato che alla fine è sempre aperto, perché dobbiamo vedere tutte le situazioni, Ottavio è soddisfatto, è soddisfatto di questa cosa. Se ci sta qualche nesto, ma qualche nesto per sistemare qualcosa, ma non è più di tanto. I giocatori l'abbiamo e credo che ci siano i migliori giocatori che si potessero prendere in questo momento, che hanno risposto alla grande e li vedi durante la preparazione. Benissimo, allora vi ricordo, allora vi ricordo intanto di mandare i messaggi Whatsapp al 333 32 71 200, poi piano piano li leggeremo e intanto mandiamo un break musicale, ci risentiamo fra poco. Mettere a dare a strizzo. Pianeta Samba, commenti e opinioni sul campionato della San Beneditese Caccio. Bene, Tunnel of Love dei Dire States, la richiesta musicale del Presidente Massi, il Tunnel dell'Amore, il Tunnel dell'Amore per la Samba. Certo, certo, dopo che mi avete messo la canzone mia preferita, i pasticcini, il caffè, il bicchiere d'acqua, ma mi puoi chiedere qualsiasi cosa, o vado in galera, o vado in galera, oppure mi puoi chiedere qualsiasi cosa. Allora guarda, ti chiedo, tra l'altro abbiamo spiorato l'argomento poco fa, dice come giudica il Presidente il campionato scorso, Marco di San Benedetto? Bello, entusiasmante, affascinante, grandi emozioni, grandi dolori, notti in zone dopo aver perso la partita, ma in questo momento, anche in questo momento, non dormo la notte perché io devo arrivare alla fine del tunnel, questo è un tunnel perché non è facile essere il Presidente della San Beneditese, tutti che parlano, dicono, giudicano e tutto quanto, ma alla fine è dura veramente essere Presidente della San Beneditese, tutti pensano che quello che ha fatto Massi in questo periodo sia facile che lo possa fare chiunque, ma qua stiamo parlando di un imprenditore, ma prima di tutto un piccolo muratore che alla fine si è mosso con la passione, con l'entusiasmo che gli ha dato sempre la città, io ricordo sempre che entrai a Portodascoli, ma perché Portodascoli a noi come ditta, come impresa ci aveva dato tanto e quindi dovevi restituire qualcosa a Portodascoli e quindi cosa di meglio di una squadra di calcio, sempre lasciando perdere le beneficenze che uno fa ma non le pubblicizza, però una squadra di calcio dovevi far divertire i ragazzi e tutto quanto, questo era l'animo, il sentimento con cui sono entrato nel calcio, ho sempre giocato a calcio, mi è sempre piaciuto, ma quando fui chiamato dagli amici e tutto quanto io, il tempo non ce lo posso contribuire, ma mi sentì di farlo perché Sambetto a noi ci aveva dato tanto, noi costruivamo soprattutto io e mio fratello, mio padre e mio zio a Portolà, nella zona di Portolascoli, nella zona della Sendina, l'abbiamo aperta noi, via del Cacciatore, via dei Corleoni, l'abbiamo aperta noi quelle vie e il nostro centro era lì. quando si è proposta la soluzione Sambettese, che faceva paura, mi ricordo sempre che mio fratello in cantiere mi dice, ma veramente vuoi fare questo? Ma veramente? A me mio fratello è quello che, bene o male, mi tiene il freno, perché se siamo due pazzi, due pazzi, l'impresa va a zampo per aria, ma invece uno e mezzo mattina. Beh beh, c'è anche sua moglie che tiene il freno. Sì, sì, dopo, 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 mia moglie, ma la sopportata, perché lei è pronta, è pronta a darmi i calci, i calci degli stinchi, perché se parla troppo, se le dice qua, oggi ti arresta giù sotto, ti vai più a subito, lo manicomio, oppure la chiusi. Ma il discorso è che, quando si è stata, cioè, si parlava di Sambettese, se ne parlava, e mio fratello, alla mattina, in cantiere, mi diceva, veramente? Va veramente? dovevo fare questo guarda, che non è semplice, tutto quanto, mio fratello mi faceva un po' ragionare, però, no, ma alla fine, siamo partiti, siamo partiti, ma anche perché, io credo che, eh, qualsiasi, qualsiasi imprenditore, eh, che gli abbia dato, che, che, eh, si deve sentire grato, di quello che è diventata la città, oggi, Sambetto, oggi, Sambetto, eh, eh, è il mondo, io vedo che, alla fine, eh, bene o male arrivano, arrivano qui a Sambetto, ne parlavo tempo fa, anche qua, se, se fanno, se ci sta le strade, se ci sta la terza corsia, se ci sta, ma io, io ho risposto, se ci sta una strada brecciata, per esempio, Sambetto, la gente, quindi, oggi, tu che lavori, dove la Sambettese, Sambetto, ti da tanto, io, mi sono sentito di ridare, tanto, di restituire qualcosa, alla città, e, e, restituire, quando sono partito, restituire a Sambetto qualcosa, a un certo punto, l'anno scorso, tutti, tantissimi, sono sentiti, il piacere di dare qualcosa, alla Sambettese, e l'anno scorso suonava il campanello, ma quest'anno la stessa cosa, quindi, c'è un amore, per la Sambettese, che, è, immenso, quindi, e, e l'abbonamento, dove abbiamo scritto, emozione unica, è veramente un'emozione unica, è una cosa che, non può provare nessuno, se non vive, Sambetto, non la può provare, quello che sta a Genova, non lo può provare, certo, la Sambodoria, va forte pure, come tifo, però, la Sambettese, è veramente, l'emozione unica, e chi ha scelto, questo, questo, queste parole, da mettere sull'abbonamento, io ho fatto i complimenti, Maurizio Dubaldo, mi sembra, che l'abbia scelto, Maurizio, con Michel, con William, questi hanno scelto, senti, nella passata stagione, 3.758 abbonamenti, tutti belli, 180 sponsor, per una raccolta, c'è stato detto, di 600.000 euro, più IVA, no, vabbè, non lo so, beh, questo c'è stato detto, in conferenza stampa, quest'anno, che può succedere? Eh, però, io ne sono ricacciato, tra tante le solde, beh, certo, questo è sottinteso, no, però, no, il bello, quest'anno, vediamo chi sta arrivando, io vedo, ho tirato fuori, nel garage di casa mia, ho tirato fuori un ufficetto, un ufficetto dove c'è un filato, là dentro, Gigi Traini, Sandro, eh, Dubaldo, e, e William, e lì vanno a giro, sponsor, che cosa? L'anno scorso mi suonavo, là l'ufficio, il garage a fianco, l'ufficio mio, senza H tutto là dentro, con l'aria condizionata, perfetti, stanno precisi, però io ho dato la scopa con la paletta, per ogni dato pulire, eh, ci abbiamo, 2659, spette, tessere, nessuna gratis ancora, eh, lo specifica per quelli che ci ha detto, che li regaliamo gli abbonamenti, ma no, ma la curva nord esaurita, 1800, rimarranno per chi vuole andare in curva, gli 828 biglietti, per ogni domenica, in casa, mi sembra che comunque, voglio dire, a pochi giorni dalla partenza, mi sembra un buon, un buon treguardo è stato raggiunto, no? Sì, c'erano, c'erano, sono stati sempre, vabbè, i detrattori, chi non mi sopporta, ma è giusto che ci sia pure questo, perché altrimenti sarebbe veramente, ma il dittatore, Max il dittatore, ma non è questo, e il fatto è che, e te lo ripeto, Sammetto, è qualcosa che ti rende, ti rende felice, ti rende, ma io credo, guarda, l'altro giorno sono andato a piedi, sono andato a una signora, una signora, belle, belle signora Sammetto, quelle che, veraci, quelle che, te lo dite ferme, te tocca, fammi te attacca, ti dice, fammi te attacca, e poi te tocca, e poi ti dice, ti dice, Presidente, ancora, mi dà le notizie, gli stengi sempre guardare, ma mi dà le notizie, quando arriva le notizie buone, qual è le notizie buone? Quali sarebbero le notizie buone? Qual è che cominciano il campionato? E qual è? E no, gli stengi sempre guardare, sempre guardare, Presidente, la gente ti ferma in mezzo alla strada, ti dice la sua, ti dice, ma è bello, cioè, a San Betto non viveva un Presidente del posto da, dai tempi, dai caioni, dai zobboletti, da, credo, c'era qualcun altro pure, però, negli ultimi trent'anni, ci sono stati questi Presidenti, che si annunciavano, con la Cinquecento, che arrivava, vabbè, però si annunciavano, e tutti arrivavano, sembrava che arrivasse il Papa, a San Betto, Oggi arriva un Presidente, che sta là, che è in mezzo alla strada, ma è più il caffè che il te, dice la sua, dà il commento, tu accetti tutto, senti tutti, è bello, è bello pure questo, cioè, quello che è in mezzo alla strada, toffa la sigaretta, che non dovrei fumare, quell'altra, la bambina che ti, che ti ferma, ti saluta, ma vivi la città, vive la città, ma, io ritornando al nome, al, al, al titolo che abbiamo detto, al, emozione unica, emozione unica, è veramente, un'emozione unica, poi, con tutto quello che, abbiamo vissuto nelle Marche, oggi, con tutto il calcio, che è andato in default, totale, tutto quanto, io ripeto, ripeto, che, abbiamo, un'occasione unica, di, tornare veramente, la regina, del calcio marchigiano, perché, San Betto, la nomino a tutti, tutti parlano di San Betto, tutti parlano della Sambettese, la Sambettese qua, il tifo della Sambettese, che è veramente unico, e, oggi abbiamo, questa grande occasione, di tornare veramente la regina, e il mio, scopo è questo, portare, riportare, la vera Sambettese, la Sambettese, del vecchio Ballarin, dove, dove le barche, quando ci stia la partita, non partì, veni, veni prima, della partita, dove, vi dovevi vincere, altrimenti, quando tornavo a tuo marito, come raccontava, le signore, non sia lo cinema, perché se la Samba avevi perso, non ci porti lo cinema, era questo, tornare a questo, con, questi grandi tifosi, questi, questi, questi ragazzi, che ti seguono ovunque, quindi, Ottavio, noi giocheremo sempre in casa, quindi, pensala tu, tu lo conosci meglio di me, lo conosce, conosci meglio di me, il campo, la Sambettese, la gente di Sambettese, e quindi, io mi affido totalmente, ad Ottavio. Oh, intanto, leggiamo un messaggio, che ci arriva, Whatsapp, dal 333 32 71 200, quindi, mandatecelo, questo dice, buonasera, saluti al Presidente, forse, a Centrocampo, siamo corti, sempre Forza Samb, Francesco di San Benedetto, qui, ritorniamo al discorso, mercato, eventuali nuovi innesti, a Centrocampo, siamo corti, la pensate così, forse? No, io dicevo, ti può servire, perché, qualche under, forse, come terzina, a Centrocampo, siamo, siamo bene, cioè, oggi, quest'anno, abbiamo, abbiamo un centrocampo, che, con Guadalupi, abbiamo recuperato, Paolini, che è un giocatore di Serecci, Guadalupi, è un giocatore di Serecci, abbiamo, un centrocampo, da Serecci, D'Eramo di Serecci, Bernaola, che, sta, sta uscendo fuori, perché, è grande, possente, tutto quanto, abbiamo, evangelisti, che è tornato, dal Castelfidardo, abbiamo i giocatori, poi, sembra che, Fabbrini, abbia trovato, pure, il suo, il suo ruolo, che vogliamo dire, il centrocampo, gli è patrici, e poi abbiamo, il gioco, le tourè, che, è la grande scommessa, dalla San Mettese, il grande investimento, e poi, davanti, inutile dirlo, il Carriota, della situazione, il Baldassi, il Battista, o, il, il capitano, Euseb, sono quelli, che devono riempire la rete, ma, riempiranno la rete, soprattutto i centrocampisti, secondo me, quest'anno, quest'anno, il centrocampo, c'è un centrocampo, che fa gol, secondo me, ma, io, se fa gol, se fa gol, Sembreni o Orsini, io sto contento lo stesso. Allora, ritorniamo a un altro messaggio, Presidente, ma un abbonamento, anche virtuale, che non, si è dono all'accesso, e che sia un ricordo, per i bambini, come, dei bambini, da, da zero a sei anni, non riusciamo proprio a farlo, forse, richiama un po' all'iniziativa, fatto nella passata stagione, cioè, quando avevate concesso gli abbonamenti ai ragazzi, da zero, dai bambini, da zero a sei anni, quest'anno, invece, questa iniziativa, non c'è più, chi ha da zero a sei anni, dovrà fare, un biglietto ridotto, mentre, resta, sì, costo un euro, però resta. Non gli va la tesserina, troveremo, questo troviamo, guarda, quello che scrivono i tifosi, e tutto quanto, cioè, qualcosa, non si può sentire, ma certe altre, vengono, vengono prese, come suggerimenti, che andremo a seguire, sicuramente, ci sono i miei, che sono attenti, su ogni, ogni parola, io lo dico sinceramente, dopo, beh, mi viene, mi viene rapportato, ma, qualsiasi cosa, la gente lo scrivesse, ce lo dicesse, perché noi, perché nessuno è perfetto, quindi, i consigli fanno sempre bene, le contestazioni pure, però, facciamo le contestazioni sane, però. Un altro messaggio dice, è prevista la vendita, di ulteriori abbonamenti di curva? Ma tutti questi pasticcini qua davanti, me li posso mangiare, te li devi mangiare, stanno lì sotto. Non ho capito, gli abbonamenti di curva? Dicono, sì, se è prevista la vendita, di ulteriori abbonamenti di curva. No, non credo, non lo, guarda, non la gestisco io, non la gestisco io, quindi, non si può, cioè, allo scorso si chiedeva, si chiedeva di vendere pure la curva a sud, ma quest'anno, eh, la curva a sud, credo che ci sia, gli spazi vuoti ci saranno in poche partite, perché ci sono tutte partite qui, tutti i derby, quindi, ci sarà, ci saranno, immagino le restrizioni che ci saranno. Ma no, no, lo sa detto, la città, no, la restrizione, la restrizione la devi fare, la prima partita sicuramente, cioè, io, mi dispiace, però, sono, i nostri cugini, tutto quanto, ma io, rientrare a Monticelli, con gli incappucciati, non ci rivedo, non ci rivedo più, cioè, questo, 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 questo non si può fare, quello, io lo scrissi, non ho avuto mai una risposta, ma, eh, lì era, lì, lì mi sono imbaurito, lì mi sono imbaurito, e imbaurirmi qua, ad Ascoli, non va bene, questo, questo non va bene, perché siamo amici, ci conosciamo, col Presidente, lassù, però, quello che è successo quest'anno, quello che è successo lassù, è proprio una cosa, che non sta né in cielo né in terra, quello che è successo lì, però, nessuno ne ha parlato, tutti l'hanno inzabbiata, io la riporto, perché ancora, qualcuno mi deve rispondere, di quello che è successo, perché io mandai una PEC, di contestazione, a tutti quanti, e quello non è stato fatto, Sammetto è una sicurezza, Sammetto abbiamo avuto 8 mila spettatori, col campo basso, con tutte le restrizioni che hanno fatto, che sono state fatte sui parcheggi, che 8 mila spettatori, e tutti a porchetta e vino, cioè, non è che là fuori, era i banchetti della porchetta, ci stava, ma, ci siamo salutati tutti quanti, vinsero loro, ma non successe niente, è uno stadio più sicuro di tutti, è quello di Sammetto, è fatto bene, la gestione, la gestione che viene fatta dalla questura, o da chi deve provvedere alla sicurezza, è perfetta a Sammetto, in altri posti, l'abbiamo vista un po', così, all'Aquila, ci siamo terrorizzati, io, con i miei bambini, chiusi dentro una gabbia, sono situazioni che, bisogna rivedere, negli altri stadi, Sammetto, non ha nessuna, Sammetto, è una festa, venire a vedere la partita, basta vedere, la passeggiata che si fa, la gente, che, pur di venire a vedere la partita, lascia, la macchina sulla nazionale, cioè, anche perché là, ci sta i parcheggi, ci sta gli spazi, no, vabbè, però, le sicurezze adottate a Sammetto, sono, perfette, da categoria superiore, la gente è tranquilla, quest'anno ci siamo divertiti, le altre, le sicurezze degli altri stati, assolutamente no, è il primo, ve l'ho detto prima, no, non si può fare, là, si deve fare a porte chiuse. Ci sono gli stopper, no, c'è lo stopper di mia moglie, che mi sta dicendo, state zitte, state zitte, no, questo è la mia idea, perché io, dove mi sono impaurito, lì, lì mi sono impaurito, sinceramente, ho avuto paura, della mia persona, lì, del, della, delle, della mia famiglia, all'Aquila, questo è sicuro. Allora, messaggio sms, scusate, whatsapp, tre 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 tre, trentadue settantuno, duecento, email diretta a chioccioladeazzurra.it, ora un breve break. Scrivi a Radio Azzurra, anche tramite whatsapp, tre tre tre, trentadue settantuno, duecento. Questa è Radio Azzurra, 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 eccoci ritornati, vi ricordo messaggi whatsapp, tre 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 tre, trentadue settantuno, duecento, email diretta a chioccioladeazzurra.it, siamo sempre con il presidente della Samba, Vittorio Massi, presidente, la scelta di palladini, sulla panchina della Samba, in questa stagione, che tipo di scelta è stata, che cosa, quale aspetto avete privilegiato, per la decisione sul tecnico, sanmenettese? Il mio sogno, è stato sempre il mio sogno, a me diceva però, mi disse alla festa della Samba, quest'anno mi disse, presidente, si potrebbe dire sì, perché eri in Portolasco di prima, e quindi, allora presi la palla al balzo, l'ho aspettato, l'ho aspettato, e poi io ho dato la direttiva, ho detto, quest'anno è palladini, l'allenatore della Samba è tese, ho detto al direttore sportivo, dopo scegliete i calciatori, però a De Angelis, io gli ho detto, sarà solo palladini l'allenatore, anche se, prima di che uscisse la notizia palladini, tutti gli allenatori del campion, della Serie D, del girone, mi avevano chiamato, tra cui? Eh vabbè, non facevo i nomi, niente, no non facevo i nomi, però vabbè, la Samba ha il suo fascino, non è, anche i giocatori vorrebbero, anche io ho il telefono che ancora squilla per il giocatore, prendi questo, prendi quell'altro, si propone, ma io non so, non so. Che speri che possa dare palladini a questa squadra, e anche a questa società, considerato il fatto che comunque siete sempre, come dire, in fase di strutturazione? Cosa può dare palladini? Sì. Beh tutto secondo me. Cioè cosa speri che possa dare palladini? Ma Ottavio mi ha detto, io ho voluto giocatori che abbiano gamba, non me lo devi spiegare che cos'è la gamba, perché due ce l'hanno tutti quanti i giocatori, però me lo spiegherà, però io ho detto, io li ho voluti conoscere, io li ho voluti conoscere, siccome li ho conosciuti tutti nel mio ufficio, quando è, e quando li ho conosciuti, li guardavo in faccia per vedere se erano uomini, uomini da samba, e l'ho visto in tutti. Devo essere sincero, devo essere sincero, tranne quello che non è venuto, che alla fine, vabbè, zippo a parlare perché mi ha fermato già mia moglie, non posso commentare, non posso commentare. Vabbè, comunque, sono tutti uomini. Ottavio è l'uomo, l'uomo samba, è l'uomo simbolo, è l'uomo che, è serio, che ha fatto carriera, per la sua serietà, per la sua onestà e professionalità, ha al suo fianco, volta attorni, che mi hanno detto, che vi dicono tutti, che non parla, ma invece, io ci parlo, e poi ci parli, è professionale al massimo, ha al suo fianco, Beni, che sta curando perfettamente, i nostri giovani portieri, chi meglio? Poi alla fine c'è Manginelli, che collabora con tutti quanti, che vuoi di più? E io c'è uno squadrone, quest'anno, ha scelto Di Renzo, come preparatore, c'è tutto, C'è qualcuno che dice, questo è l'anno della verità per Massi, se non dovesse andare, come tutti speriamo, potrebbe ripensarci, invece? Massi sarà sempre qua, oramai ce l'ho legato al cuore, anche se io ci sono nato, con la Samp, la voglia di oggi essere presidente, lo ripeto, non è facile, tutti parecchi dicono, io so facoli, ho fatto Massi, una stronzata, una stupedaggine, si può di fare tutto quanto, perché non si è fatto prima, perché c'erano state occasioni, per più alla Sammettese, ce ne sono state tantissime, per arrivare alla Sammettese, ma nessuno ha avuto il coraggio, perché io alla fine, alla fine, non si può dire, mi ha detto che non si può dire, devo riconoscere che alla fine, me le posso fare un complimento? Sì. Ci ho avuto coraggio, però, conoscevo, conosco la città, conosco il Sammettese, la Sammettese, il bambino Sammettese, l'anziano Sammettese, la ragazza Sammettese, conosco, conosco, ci conosciamo a Sammettese, anche se non ci siamo mai parlati insieme, è emozione unica. Come ci si sente da Presidente, la mattina quando ci si alza, carico di responsabilità? Grandi responsabilità, sì, arrivi a un certo punto che alla sera ti addormenti, ti addormenti, ma crolli, non ti addormenti, crolli proprio totalmente, con tutti gli occhiali, che tutte le volte alla mattina vado ricercando gli occhiali, perché mia moglie da qualche parte me l'ha messi, però sì, ti stanchi veramente, ti leva l'anima, però ti senti proprio soddisfatto, di tutto quello che succede, di tutto quello che vedi, vincere per Sammettese, l'entusiasmo, la bellezza di Sammettese, poi alla fine io, alla mattina esco col mio cane, mi vedo il porto, e già lì dice, parto un'altra giornata, ma parte una giornata con il mare, le barche, già ti carichi di Sammetteseità, ritorniamo a quel discorso di Sammetteseità, che ho portato l'anno scorso, però mi hanno detto che l'aveva inventato qualcun altro, ma vabbè, io non mi prendo, non mi prendo i meriti da Sammetteseità, però... Senti, il peso di dover vincere il campionato, lo senti addosso? Lo sentite addosso? No. È un impegno verso la città, forte, grosso? No, 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 io credo che alla fine quest'anno, devi giocare fino in fondo, abbiamo visto, come tutti gli anni di Serie D, che i campionati si vincono a febbraio-marzo, perché noi, l'anno scorso, allo stesso periodo, stavamo ancora lì, si poteva, poi ci fu una traversa, e il gol, la ricambiò tutto il campionato, sono casi, certo, come dice Di Renzo, possiamo fare tutto quanto, ma alla fine è quel campo verde là, che decide tutto, dobbiamo essere tranquilli, sapere che siamo la squadra più forte, dobbiamo entrare in campo, con la tranquillità dell'uomo che si sente forte, io non entrerò, non c'è bisogno che io possa entri negli spolitori a caricarli, perché sono già uomini, già belli carichi, hanno visto già il calendario, e qualcuno aspetta pure una persona, sì, chi aspettiamo? Qualcuno, alla seconda giornata? No, no, già alla seconda aspettiamo qualcuno? Vabbè, forse, che secondo me qualcuno aspettiamo la seconda giornata, no? Ma se gioca però? Eh, in campo? No, bisogna vedere se gioca. Però a questo volevo chiedere, alla fine la squadra è stata rinnovata quasi totalmente, sono rimasti Paolino e Battista, di fatto, della passata stagione, con qualche giovane, perché è stata fatta questa scelta? Magari qualcuno dice, forse era meglio tenere di più l'ossatura della passata stagione, considerato che comunque era una buona squadra, e tutto sommato, aveva fatto vedere, cose buone, certo, bisognava rinforzarla con alcune pedine, però arrivare a questa, diciamo, rivoluzione totale, forse nessuno se lo aspettava, invece? Beh, anche io, però non ne decido io queste cose, ho deciso solo, io avevo chiesto solo di decidere l'allenatore, e che riota, il resto dopo lo faceva tutto De Angelis, fa tutto De Angelis con l'allenatore, quest'anno è cambiato l'allenatore, è cambiato il preparatore, hanno valutato certe figure, le figure erano quelle che cercavano, le hanno prese, e io ho fatto l'altro giorno, ho fatto un incontro con loro, sono soddisfatti di quello che, del materiale calciatori che hanno, che gli è stato messo a disposizione, con sacrifici per la società, che non è, che non si sono fatti sacrifici per arrivare a certi calciatori, e quindi adesso tutti ci aspettiamo tanto, però io ne faccio il giocatore, anzi quando mi dici il nome, io manco lo conosci, chi? no, certi nomi non li conoscevo, non è che ho l'album delle figurine, non è, le facevo le figurine, senti uno su cui ci si punta tanto è Keriota, anche se poi alla fine, diciamo il nome che tu avevi chiesto era un altro, no no Keriota, no era un altro, diciamo la, non ci prendiamo in giro, era un altro il nome, t'assicuro, t'assicuro, avevi parlato di un giocatore di sé, che faceva la serie C, ed è stato proprio palese, ma il bello è che l'errore più grosso, avello chiesto, perché una volta che lo hai si conosciuto, mamma mia ragazzi, ti sei pentito, lascia perdere, uno che dice che c'ha i demoni su un destra, signori, io mi ho male a facciare un bagno, mia moglie mi sta pizzicando, senti, Keriota che c'ha, che può dare Keriota, considerare che è stata una tua scelta, questo l'ho detto anche stasera, è un ragazzo serio, un ragazzo perfetto, ha scelto, la scelta di San Metto, non era facile arrivare a Keriota, anzi, era difficilissima anche Keriota, oggi è a San Metto, e lui darà tanto, ma dovrà seguire però i vari gennari, esso davanti dovrà seguire soprattutto Eusebi, che alla fine i vari gennari, i guadalupi sono le pedine, sono i giocatori più esperti che abbiamo, e non dimentichiamo Persola che alla fine è il più grande, è uno dei più grandi acquisti che abbiamo fatto, perché era destinato ad altre squadre, però quando mi chiamò, mi disse, Presidente ho deciso di rimanere, ti voglio vincere a San Betto, quello è un ragazzo, è un ragazzo che gli auguro tanta carriera. C'è qualcuno che dice, questo campionato qui sì, ci sono tanti derby, però alla fine forse è un pochino più semplice, rispetto alla passata stagione, invece qualche un altro dice che no, in effetti il più difficile sarà quello di quest'anno. No, secondo me negli anni la Serie D diventerà sempre più difficile. Rimettiamo i da restrizione? No, la Serie D sta diventando sempre un campionato difficile, perché adesso vedrai, è quasi più facile la Serie C che la Serie D, scendono giocatori di altre categorie, di categorie più alte, quindi sta diventando un campionato sempre più difficile, purtroppo ne vince una sola, ma anche il fatto che tu debba portare, si parlava che allungassero la pagina, 26 giocatori, poi te li scegli e tutto quanto, è un errore grosso che non hanno fatto, perché alla fine purtroppo ci saranno sempre quei 4 giocatori, 5 giocatori che vanno in tribuna, mentre lì invece ti porti anche il giovane e in partite particolari puoi fare esordire il 16enne o il 17enne, quindi non dare la possibilità a queste cose, sono degli errori grossolani che fa la Lega, perché mandarle in tribuna? Fai la pagina lunga, 26 giocatori e l'alleatore può scegliere di più. Senti, chiudiamo la serata con un messaggio ai tifosi. Che ti senti di dire? I tifosi? Sì. Eh, ragazzi, io ce l'ho messa... Di promettere anche. Eh, io vi prometto. Guarda, se ti faccio... Se ti dico quello che... Il programma... Eh? Il programma della Samb, eh, proprio lì, il meso messerito, però può essere, può essere, ci può stare quel programma che è stato fatto. Cioè? Cioè, un programma fantastico, però ci vuole l'appoggio di tutti. in questo momento Massi è, in questo anno è stato un po' isolato. Appoggiato da tutta la città, da curva, quando ho sbagliato mi sono sentito di chiedere scusa, però io spero che la collaborazione che deve, deve arrivare la sto aspettando. Adesso c'è il mio direttore generale che parlerà, farà, discuterà, tutto quanto, ma se non arriviamo a quei livelli, arrivare, torneremo ai livelli di quello, quello che è successo alle altre società, delle Marche. Non si può, non si può... Cioè, senza entrare nel particolare, aspetti una collaborazione o comunque una manotesa da parte del Comune, giusto? Assolutamente bloccare la crescita. La crescita è impossibile, non si può bloccare. Se tu hai il tuo bambino, gli dai tutti i giorni a mangiare, gli dai, lo fai crescere, gli fai fare tutto il coso. Tu considera che io ho preso la Sambettese come se fosse un neonato l'anno scorso. Il 10 agosto ho preso un neonato, perché una storia enorme, un bagaglio di storia che è pure qui dentro, a Radio Azzurra, sono entrato, mi avete fatto vedere le foto vecchie della Sambettese, questa è una storia enorme che era stata richiusa, rimpacchettata in una valigia, stava per essere buttata in un fiume, o iottronde, e tutto quanto. Io ho ripreso una Sambettese neonata, quindi li devi fada a mangiare, la devi far crescere. E se tu blocchi la crescita, che dopo che sia io o sia un altro il presidente, ma se sono antipatico io, mi vado via, se sono antipatico o quello. Io spero che si possa crescere, che bisogna dare, dare la possibilità di crescere, di dare il latte con lo biberon e farlo crescere sempre di più, sta Sambettese, tu frichi che si chiama Sambettese. Bisogna farla crescere, se gliela blocchiamo, chiudiamo le porte, gli sbattiamo la porta in faccia, non gli diamo quella collaborazione che dà tutta la città, che in un giorno abbiamo fatto quasi duemila tessere, c'era la fila sopra lo ponte dell'Auginona delle Palme, era una cosa che si vede solo in Serie A, si vede a Roma, si è vista in altre situazioni, dove ne si è vista mai una cosa del genere. È un bambino, oggi la Sambettese è rinata da, è come la Fenice, che è rinata, è voluto uscire da quella valigia dove qualcuno l'aveva chiusa, l'aveva sigillata là dentro per lanciarla, a un certo punto ci siamo ritrovati a Sambettese e ci stava più, giusto? E stava morendo tutto quanto, un mondo dove siamo cresciuti con la Sambettese e a un certo punto finisce. Ma non è, non può essere questo, no? E dopo, la perseveranza di questa donna che sta qui a fiagga a me, che ha fatto tanto, devo dire che ha fatto tanto, però, mi dicono che, mi dicono, mi suggeriscono che la collaborazione arriverà, me l'ha scritto sull'cellulare, però, la collaborazione arriverà, speriamo, perché il bambino sta crescendo e sta crescendo veloce, veloce, mo, anno scorso era un anno nato, mo c'ha quasi vent'anni, quindi, in un anno ha fatto vent'anni, no? Come Luca che fa sette anni, questa Sambettese fa vent'anni in vent'anni, vent'anni in vent'anni, quindi arriveremo e quindi ritorno al programma che c'è stato, se c'è la collaborazione, ma questo programma, qual è sto programma? Il programma è di, e lo siamo fatte, di, a vincere, di a vincere, e potrò dico lo programma, perché che cosa è? Di, lo siamo fatte, uno lo siamo, è l'anno scorso, di, a vincere, sì, quest'anno, e dopo Pietro, ma batte a fine campionato, no, non siamo fatti un programma, questo è un programma che mi hanno fatto leggere, C, ma chi lo ha fatto questo programma? vorrei capire, C a fare un ottimo programma, provarci, C a vincere, B, B, A, mi hanno detto A, e lì mi sono i tevi, però, però se è veramente, se è veramente, e non serve, e non serve il, il grande, quello che arriva, fatturate di qua, fatturate di là, poi scappa, oggi sentivo Catania, che, anno scorso, due anni fa, facevi 10.000 spettatori, pare che, che parlano, pare che la tolgano dalla Serie C, chiedeva, ma dove da figlio presidente? Cioè, è una situazione, situazioni, inverosimili, si vede in tutta Italia, ma io parlavo pure, parlavo con altre persone, della Lega, della Lega, eh, della Serie C, mi dice, alla fine, c'è sempre, c'è sempre, 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 c'è certa gente, lei Massi, è un unicom, con qualcuno pure qua, della zona, pure quello, pure ad Ascoli, c'è, c'è Clasiano, che è un unicom, a Pinedo, c'è, c'è Brocco, però sono situazioni, diverse, San Bettese, è un'altra cosa, quindi, risultando al discorso, a quest'anno, si è metato latte, e l'Ufrighi, è cresciuto fino a 20 anni, adesso, di avvingere, adesso lo devi, i devi da mangiare, a sto bambino, e non è il presidente, che deve da mangiare, che gli sta vicino, perché è presente, i tifosi, e tutto il resto, che gira attorno, alla San Bettese, la radio, le televisioni, i giornali, tutto quello che gira, gira un mondo, io non so, quanta gente pago, quanta gente, assunta, non so, cioè, è un'industria, la San Bettese è un'industria, non è che me li metti un saccoccio, questo lo mette, perché qualcuno dice, che basta, ci guadagna, là, ma che ci guadagna, vado a dire un commercianista, che mi regore tutto l'udì, il discorso è che, dobbiamo crescere, a San Betto, dobbiamo crescere, San Betto, il Trondo deve crescere, e, con San Betto e il Trondo, la San Bettese, adesso, c'è una vent'anni, a vent'anni, è matto, il ragazzo, dice, non uno di vent'anni, tira le prete, cioè, in questo momento, tira le prete, però adesso, è in piena evoluzione, adesso, si capisce, dove andrà a finire, adesso la San Bettese, quest'anno, si capirà, dove andrà a finire, ma ci vogliamo essere tutti, ci dobbiamo essere, se non ci saremo tutti, a dicembre, l'abbandoneremo tutto, no, vabbè, eh, vabbè, se non mi dice, se non mi fa vedere che ci stiamo, ci stiamo, cioè, io voglio ringorre, ringorre la gente, ma io, beh, figuro come lo scemo del villaggio, però la collaborazione arriverà, quindi, possiamo stare tranquilli, ma quest'anno, la San Bettese, sta dimostrando che, come diceva, la gente che ci dava suggerimenti, ci contestava, io li prendevo come suggerimenti, le contestazioni, li ho prese come suggerimenti, che bisognava rafforzarsi, e quindi, abbiamo, ci abbiamo messo tanto, però abbiamo, abbiamo avuto, abbiamo trovato, un direttore generale, abbiamo, il dottor Ricci, che alla fine, è l'opposto, di Massi Vittorio, totalmente l'opposto, è quello che ci voleva, è quello che mi tiene buono, mi tiene calmo, e fa lui, parla lui, gestisce lui, e tutto, io sono contentissimo, infatti, non mi avete mai sentito parlare, no? non parlo più, solo che stasera, ma avete, ma avete, coinvolto, ma avete coinvolto, e ringrazio tutta Radio Azzurra, per questa, questa occasione, perché, è la prima volta che mi capita, di parlare davanti all'un microfono, che sia radio, perché se a me mi date un microfono, faccio il macello, qua qualche presidente, ci ha perso un bel po', con qualche affermazione, alcuni anni fa, allora, sono sbagliato a venire, no, no, hai fatto bene, ma non hai detto niente di particolare, perché, no, dopo io me li riporto, questi pasticcini, perché mi sarei mangiati, nissù, tutto quanto, va bene, allora possiamo dire, ok, devo ringraziare, devo ringraziare, ringrazio i ragazzi della Curva, che, quest'anno, ci tengono, soprattutto loro, e tutta la Sambetta, e tutta la città, ma, devo ringraziare loro, perché, indicativamente, io ne conosco qualcuno, ma non è che, li conosco, li conosco, però, li osservo, mi fanno, mi riempiono il cuore, tutti quanti, e soprattutto pure, tutti quanti, tutti quanti, anche la Curva, la Laterale Est, quest'anno abbiamo aperto la Laterale Nord, e stanno facendo gli abbonamenti, cioè, si è sentito anche in dovere di chiedere scusa, no, per la mancata vittoria della passata stagione, alla fine del campionato, quando sei andato sotto la curva, vabbè, io vivo la partita, io credo che, come vivo io la partita, cioè, la gente mi conta pure le sigarette, però, io vivo la partita, troppo, esagerata, troppo, io la vivo troppo, da tifoso vero, e da, però, quel giorno, scappai a tutti, perché tutti mi controllano, per le tre cose, e tutto quanto, e andrei a mezzo, mi dispiaceva proprio per loro, per l'entusiasmo, che hanno me, avevano messo tutto l'anno, nelle trasferte, e tutto il resto, però, devo dire che, sono due anni, che c'era l'assemo, giusto? C'era l'assemo, facciamo, finisce il campionato, vabbè, la contestazione, quest'anno è finita il campionato, lo scorso è, però, c'è subito, riparte, Campagne acquisti, cose, quindi non c'è problema dell'iscrizione, non c'è problema di soldi, non c'è problema che, vabbè, quello sponsor e di via, non c'è, non ci comporta più di tanto, non è che, quello, ne arriva un altro, lo sponsor è cosa, ma alla fine, è un giro, che, se si sta, ci riesci, io mi chiedo, come cazzo, faci prima, ha fatto macelle, tutto il genere, da certa gente, e come fanno, tante squadre, ha fatto tanti macelli, perché alla fine, tu, se la sai gestire, se sei bravo, nella gestione, e, un muratore, che riesce a gestire, qualcosa vorrà di, ah certo, quindi, però la collaborazione arriverà, siamo tranquilli, guarda, io, sono tranquillissimo, perché, ci sono delle, delle, delle cose, dei segnali importanti, da parte del, del direttore generale, sapete, mattina, l'anno scorso, del direttore generale, sono sbagliato, metterlo prima, sono sbagliato, forse, mi dicevano di mettere, il direttore generale, adesso, c'è, il dottor Ricci, ed è una persona, squisita, ottime premesse, ottime premesse, ottime premesse, il suggeritore, il suggeritore, il suggeritore, allora, niente, basta così, la finiamo, è stata una bella serata, ringraziamo il presidente Vittorio Massi, che è stato ospite qui, a Radio Azzurra, abbiamo cercato di, riempire quest'ora e mezza, anche con un po' di, come dire, di simpatia, e cercare di fare un po' un escursus, per quello che sarà poi, il prossimo, campionato, che ritengo, sarà molto difficile. se volete, vengo a fare notturne, io, mi godevo, quando c'erano le notturne, io me ne addormentavo, con le notturne, ah sì? le vecchie notturne, le vecchie notturne, erano fantastiche, giusto? erano bellissime, tu ti mettevi nel letto, non c'era, non c'era la, 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 guardare la televisione, l'aluletto, ma quando mai, molti mettevano la televisione, e la mente viaggiava, Babbo, Babbo, Babbo mi dice, ma che mito la televisione alla camera, la camera si va a termine, e questo, Babbo, perché si sbagliava presto, però, ma c'era la televisione alla camera, le cose, tutto, io invece mettevo, la radio là, mettevo la notturna, il notturno, era fantastico il notturno, perché ti entra meglio, alla notte, le cose, bene, scusate, ora comincio a parlare fino a domani mattina, grazie presidente, buona serata a tutti, alla prossima, ciao a tutti, grazie a tutti,